Buonasera a tutti, mi sentite bene? Buonasera, sono Sabine Vansprang, la direttrice dell'Accademia Belgica e sono molto felice ovviamente di darvi a tutti il benvenuto per questa conferenza organizzata in occasione della bellissima mostra Rubens a Genova che è attualmente in corso e sarà fino al 22 gennaio del 23 a Genova al Palazzo Ducale. Allora come si sa Peter Paul Rubens, il grande maestro della pittura fiamminga del 600, addirittura della pittura barocca fiamminga che ha contribuito in maniera determinante a forgiare ha in realtà iniziato la sua carriera dopo essere diventato maestro ad Anversa in Italia. All'età di quasi 23 anni nel 1600 partì per la penisola dove entrò al servizio del duco di Mantova Vincenzo Gonzaga e dove rimasse per quasi otto anni. Nel corso della sua peregrinazione italica per ricorre all'espressione usata nella prefazione di questo ricco addirittura veramente ricco catalogo che accompagna pesante la mostra Rubens andò ecco buonasera più volte a Genova una città che impressionò a tal punto il pittore che nel 1622 cioè quattordici anni dopo essere tornato a Anversa pubblicò il Palazzi di Genova un'opera in cui Rubens esprime la sua profonda ammirazione per la superba città portuale e su Palazzi comodissimi. Ho preso tutto questo nella prefazione del catalogo ed è proprio nell'ambito del quarto centenario della pubblicazione un'anversa di questo libro quindi Palazzo di Genova che la che il professore Nulsbutner e la dottoressa Anna Orlando hanno deciso di curare una mostra che esplora in maniera approfondita e nuovamente il rapporto tra Rubens e la famosa città. Allora come dimostra il catalogo che è veramente un bel gran catalogo e come lo ricordo la prefazione del catalogo la mostra e il volume si fondono su una solida base scientifica il cui scopo era sia di considerare le opere genovesi di Rubens nella complessità dell'intera opera del pittore del punto di vista biografico, storico, iconografico ed attributiva che del contesto genovese il mio artistico e quello dei committenti di Rubens, cioè le ricche famiglie genovese anziché il loro rapporto con Gonzaga. E quindi è proprio per questo motivo che abbiamo voluto invitare stasera la dottoressa Orlandi e il professore Butner a condividere con noi i progressi scientifici realizzati in occasione della preparazione della mostra. Abbiamo anche il piacere e l'onore di accogliere la molto attiva Raffaella Morselli, professore ordinario di storia dell'arte presso la Sapienza, ma penso che lo sapete tutti, tra molte altre cose, e grande specialista dei Gonzaga, ma anche direi della pittura italiana di Fiaminga del Seicento in generale. E professoressa, veramente grazie di aver accettato di essere qui stasera con noi, perché direi che non passa quasi un giorno, l'ho detto prima, senso che ricevo un invito a una conferenza sulla pittura italiana a cui lei partecipa, quindi veramente grazie tanto. Allora, purtroppo, come sapete, il peggio di Covid, per fortuna, è alle spalle, ma purtroppo è ancora in circolazione. E quindi il professore Butner ha purtroppo scoperto di essere positiva qualche giorno fa. Ma ha comunque voluto essere con noi stasera da rimotto, infatti lo vediamo lì là sopra, e lo ringraziamo molto per questo forzo. E quindi dopo una presentazione della mostra da parte della Defensa Orlandi, che ovviamente ringrazio anche calorosamente per stato il nostro invito, Nils Butner ci parlerà in inglese delle repercussioni di questi progressi, di questi nuovi scoperti, fatto grazie alla mostra, quindi questi progressi sul catalogo ragionato dell'opera di Rubens, cataloghi che da molto anni è oggetto di una colana di pubblicazione chiamata, chiamata, parlo, Corpus Rubinianum Ludwig Burkhardt, condotto sotto la direzione del Centro Rubinianum di Anversa, centro di cui Nils è ormai il presidente del Consiglio Direttivo, oltre a essere membro del comitato di redazione del Corpus, e ovviamente anche autori di certi volumi. La dottoressa Orlandi riprenderà poi la parola per spiegare la metodologia utilizzata per reesaminare il rapporto specifico tra Rubens e Genova, in particolare anche tra il pittore e i suoi comitenti. And last but not least, la professoressa Morselli affronterà ovviamente la questione dei archivi Gonzaga e di ciò che dicono sui rapporti tra il duco di Nantova, Rubens e la superba città di Genova. E alla fine potete chiedere tutte le domande e sono sicura che ce ne saranno tanti. Vi ringrazio e lascio la parola alla dottoressa Orlandi. Ci siamo. Buonasera a tutti, grazie ovviamente, grazie mille dell'invito. Siamo noi a ringraziare l'Accademia Belgica per questo invito, fatto proprio ancora quando stavamo lavorando, quindi un po' sulla fiducia, e quindi davvero graditissimo, graditissimo anche per poter certo raccontare e condividere non solo con quelli che sono a Genova e che hanno visto la mostra, ma anche con chi ci auguriamo la vedrà e quindi un pochettino più lontano, ma una comunità sicuramente come questa interessata ai vari aspetti della mostra. Ce ne sono moltissimi, è una mostra effettivamente ricca che abbiamo impostato coscientemente, diciamo volontariamente, in modo molto trasversale anche rispetto all'offerta al pubblico, quindi una mostra particolarmente ricca di materiali di supporto didattico, per esempio, e questo che ci preoccupava molto prima di aprire in realtà sta ricevendo molto consenso dal pubblico, proprio perché io credo che oggi le mostre vanno fatte a più livelli per essere apprezzate dalla nostra diciamo comunità scientifica ristretta, ma non necessariamente solo per questo, insomma c'è un po' il rischio di parlarsi addosso, c'è sempre, invece le mostre per funzionare devono coinvolgere il pubblico. Ecco, ci sono diverse cose che hanno funzionato e che adesso vi racconto. Dunque, è una mostra prodotta dal Comune di Genova, intanto è una mostra che non è un blockbuster, è una mostra cucita su Genova, è una mostra dove il Comune ha investito molto insieme a Fondazione Palazzo Ducale e abbiamo un partner a tutti gli effetti, che è l'editore, la casa editrice electa, che è entrata proprio come coproduttore, quindi con un investimento importante e con la pubblicazione, tra l'altro vedrete, di ben quattro pubblicazioni, diciamo, altre tre oltre al catalogo. E poi, diciamo, cammin facendo, abbiamo imbarcato questo sponsor importantissimo, uno sponsor unico che ha dato, che compiva, abbiamo avuto la fortuna che il libro compiva a quattrocento anni, la Rimorchiatori Riuniti compiva cent'anni di attività, è una società di forte identità genovese, la mostra è di forte identità genovese e quindi, insomma, è stata un po' la ciliegina sulla torta di questo avvio di lavori che partiva, insomma, sotto le migliori stelle, le migliori aspici. È ospitata a Palazzo Ducale, che di fatto poi è l'unica sede importante che possa ospitare dei prestiti museali, ossia che abbiano nell'appartamento del Doge, tra l'altro è l'unico locale che ha veramente i requisiti, diciamo, dal punto di vista della temperatura e umidità, del controllo di quanto serve per i prestiti, soprattutto prestiti museali, le tavole, eccetera. E' uno spazio di per sé suggestivo, questa è la cappella del Doge, la mostra si svolge in sedici sale e nasce da, devo dire che Raffaella anche qui ci ha messo del suo, perché quando io avevo pubblicato un primo libro, dove pubblicavo alcune cose su Rubens, di cui in parte vi parlerò, Nils aveva letto e ci ha messo in contatto e quando Nils Büttner stava studiando, stava organizzando questa mostra a Stoccarda, che poi c'è stata nel 2020, tra i vari posticipi ritardi, eccetera, aveva al centro della mostra, fatta al Museo di Stoccarda, ovviamente il Rubens di Stoccarda, che non era mai uscito dal museo, lo stavano restaurando, un restauro complesso, il problema era che avevano questo doppio ritratto e non sapevano chi fossero questa donna, questa probabile nonna e questa probabile nipote. Nel senso che è uno dei tanti casi dove si appiccicavano nomi, diciamo così, un po' arbitrariamente, e però fare una mostra senza sapere chi sono i protagonisti diventava. E quindi da lì sono stata chiamata da Nils, dal Museo di Stoccarda, per studiare questo quadro. Quindi questa qui è quando è appunto iniziata la nostra in pieno Covid, come vedete dal nostro look, ci siamo conosciuti in questa occasione e abbiamo capito che comunque la complementarietà delle nostre approcci, delle nostre conoscenze, delle nostre competenze, poteva dare i frutti. E quindi è iniziato questo, a partire da noi due, un lavoro di squadra importante. Da una parte vedete un numero di studiosi importanti, qui abbiamo Anna Lobianco, Cecilia Paolini, oltre a Raffaella Morsella, ma tanti altri studiosi che hanno partecipato, vuoi al Comitato Scientifico, che è un board internazionale importante, vuoi con contributi al catalogo, eccetera. E poi tutto lo staff, ovviamente, del Palazzo d'Italia, del Comune. Insomma, un lavoro, come tutte le mostre, di grande soddisfazione, come sapete, anche divertente di questo lavorare insieme, che è un po' alla base di tante cose. 16 sale, quindi un percorso complesso, che inizia con un'introduzione proprio sul fatto che appunto si ha questo centenario, di come Rubens abbia capito che i palazzi di Genova erano qualcosa di unico e speciale, potevano diventare un modello per la nascente borghesia d'Europa e come l'aristocrazia genovese fosse più simile alla borghesia della sua città in quanto non fosse simile all'aristocrazia delle altre città d'Italia, delle altre corti. Quindi abbiamo sfruttato questo anniversario, è un'indicazione questa che viene proprio anche dall'amministrazione, dal nostro sindaco, sfruttiamo questo anniversario per raccontare questa storia. Le sale sono proprio un susseguirsi di storie, a partire ovviamente dall'arrivo di Rubens in Italia e la sua dichiarazione celebre, che dice di essere stato più volte, quindi questa indagine un pochettino più capillare, incrociando una serie di dati per capire quando effettivamente è venuto. La tesi è una mostra a tesi, certamente. La tesi è, Rubens pubblica questo libro così importante, la prima operazione di marketing territoriale che fa a livello internazionale di questa città perché se ne innamora. Chi veniva a Genova di fatto ha questo senso di stupore, meraviglia, sorpresa e quindi abbiamo voluto raccontare questo, cercare di visualizzare, cercare di far vivere questo momento di sorpresa. E in questo Giovanni Tortelli, che è l'architetto che per fortuna, io volevo fortemente, avevo lavorato con lui nel 2004, quindi per fortuna siamo riusciti ad averlo, e secondo me ha interpretato molto bene questo discorso perché ha riuscito a studiare un allestimento che di fatto tocca un po' le corde, diciamo, emozionali, questo aspetto della sorpresa, voi con le luci. Gli avevamo chiesto, gli avevo detto che almeno i Rubens venissero fuori appena uno entra in una stanza, che si differenziassero dalle altre opere, che si capisse che l'opera di Rubens era quella che guidava il senso di quella sala. E lui ha trovato questa soluzione di metterlo tra queste specie di lesene, insomma una specie di nicchia dorata, molto elegante, molto pulita. Insomma, a noi è piaciuto moltissimo, ma mi sembra che anche il pubblico. E quindi aiuta anche questo, aiuta a sintonizzarsi un po' su questo tema del coinvolgimento, che è molto sensato, anche pensando all'arte di Rubens, che è un'arte che ti coinvolge, che ti travolge, che ti prende a 360 gradi. Quindi sono diversi argomenti che si susseguono l'uno all'altro e che portano a scoprire piano piano la Genova che lui ha incontrato, quindi la Genova che ha conosciuto. Intanto la differenza rispetto alla corte di Mantua, questa città coltissima con cui lui entra in contatto e con cui si trova perfettamente a proprio agio, perché partano più linghe, perché sa leggere, perché è colto, perché è ben educato, perché sa stare a tavola piuttosto che sa conversare, educato, no? E ha fatto il paggio in una corte, diciamo, dove lo metti sta e il Duca se lo portava dietro e gli faceva solo che fare bella figura. E si entra in questo rapporto intimo di amicizia, lui lo dice, ha avuto intrinsechezza grande. Ecco, perché ha cercato di capire un po', approfondire un po' questo tema degli ambienti che lui frequenta. E questo viene fuori molto bene, per esempio, che tutti i suoi committenti, questo non l'aveva mai detto nessuno, tutti i suoi committenti sono o accademici, o fondatori di accademici, o poeti, e loro stessi eletterati, Giulio Pallavicino che vedete qui, aveva duemila libri nella sua biblioteca, che è una cosa assolutamente straordinaria. affondi notevoli sui committenti. Questo percorso che vedete, ricco, abbiamo più di 25 Rubens, quindi eravamo partiti e abbiamo detto almeno un Rubens per sala, per dare un senso, anche perché siamo partiti che ci hanno detto non farete mica una mostra di Rubens senza Rubens. e ho detto grazie della fiducia. E quindi siamo partiti belli carichi, e quindi abbiamo ovviamente raddoppiato il nostro obiettivo, e ci sono quindi un numero di Rubens importanti, alcuni mai venuti in Italia, alcuni mai esposti a Genova, alcuni mai esposti in assoluto, quindi due o tre nuove scoperte, presentazioni per la prima volta. Ci sono di fatto, abbiamo riportato a casa, un numero di Rubens che non c'era mai stato, uniti a quelli che stanno fermi dove stanno normalmente, che non abbiamo spostato. Abbiamo un numero di Rubens che è superiore a quello che c'era a fine del Settecento, prima che le famiglie iniziassero ad alienarsi, e anche più Rubens di quanti ce ne fossero, ovviamente ai tempi di quando Rubens era in Italia, perché poi molte sono le opere che arrivano dopo, perché li spedisce da Anversa, oppure perché arrivano per le vie del collezionismo, diciamo così, acquistate nel Settecento. Ci sono delle opere straordinarie, come questa di Cassel, opere un po' valorizzate, questa è un'opera, è un dettaglio di uno sketch bellissimo del Castello Sforzesco, che è un Rubens stupendo, però poco conosciuto, poco valorizzato. Tant'è vero che poi, come spesso succede, quelli dei musei di Dicona, ah ma da noi si vede molto peggio, adesso che torno lo mettiamo un po' meglio. Ecco, in mostra a volte succede, no? Che vedi le cose meglio di come le vedi normalmente. Appunto, come dicevo, il primo autoritratto noto non è mai stato esposto in Italia, il San Sebastiano, il nuovo San Sebastiano, di cui poi vi parlo dopo, non era mai stato esposto in Italia, alcuni in Aia Genova, abbiamo due pressiti importanti dalla Galleria Borghese, che non è banalissimo, quindi la Susanna, questo è il bozzetto di Salisburgo. Insomma, molti poi sono i quadri che tornano proprio a casa e con una ricostruzione che un po' vi racconterò, proprio di capire fisicamente dove si trovavano e dove erano collocati in città. Quindi ricostruire proprio la casa vera e propria dove a un certo punto si sono trovati o dove abitavano i suoi committenti, come vedete per esempio nel caso di Giulio Pallavicci. Quindi tornano davvero a pochi passi da casa o addirittura, sappiamo dove sono stati dipinti e non più tardi di ieri, ieri era giovedì, no era mercoledì, ieri, sono stata invitata a pranzo, è stato fatto un pranzo anche così per ringraziare della mossa di Rubens esattamente nella casa dove questo quadro è stato dipinto. E quindi diciamo che Genova ha questa cosa un po' speciale di poter ancora far vedere e portare i visitatori esattamente nei posti dove le opere sono state dipinte e che si trovano, vedete il palazzo di Gio Vincenzo Imperiale in condizioni con tutto il degrado che volete, i restauri, tutto quello che volete, ma hai ancora veramente il senso di entrare dove è entrato lui. Quindi attorno alla mostra è nato questo progetto di network consapevole di questa unicità che la città può offrire e quindi c'è un itinerario esterno, una serie di iniziative esterne appunto di questo network per presentare al visitatore la città di Rubens, la città sotto il segno di Rubens, quindi un percorso di 42 tappe che portano o dove si trovano i Rubens che non abbiamo spostato o dove abitavano i suoi committenti o dove si trovavano i quadri, insomma, o ovviamente i palazzi inseriti nel suo libro Palazzi di Genova. Undici, sono arrivate a essere undici mostre collaterali, le tappe ve l'ho detto e poi la scelta curatoriale molto ferma che è stata quella di non spostare le opere dove si possono normalmente vedere, delitto spostarle dagli altari visto che abbiamo esattamente l'altare dove si trovavano nel 1605 e 1619-20, quindi, e poi le due opere museali in modo che le persone vadano a vedere anche il museo. ecco, questa è la situazione della circoncisione che è ancora esattamente lì dove, come ha detto Raffaella, giustamente, è venuto probabilmente lui lì a verificare come faceva vista l'importanza di questa commissione 1605 a vedere che la montassero in mezzo a queste due colonne strepitose di cui le cronache raccontano che sono arrivate da framura per mare, insomma, cioè, era tutta una cosa e noi riusciamo ancora a vivere questa, a far rivivere questa situazione. Ovviamente, tra dentro mostra e fuori mostra c'è un rapporto, diciamo, reciproco di valorizzazione, di rimanti, di richiami, quindi, questo è una valorizzazione che si fa in mostra, ma poi, come dicevo, Eletta ha pubblicato una guida breve, addirittura, questa piccola edizione molto apprezzata dei palazzi di Genova, di Abscondi, poi una guida turistica all'insegna di Rubens, cioè, portiamo, appunto, a vedere dove è stato, dove abitavano, eccetera. Non ci sono solo Rubens, questa è la sala dove ci sono dei cambiaso strepitosi, anche mai visti, riuniti per la prima volta il pandan di Rodolfo d'Ansburgo, quello di Kassel e quello riscoperto nel 2014 da Praga per la prima volta assieme, insomma, ci sono tante cose e anche degli oggetti e che, perché sono di corredo a quel discorso di contesto di cui poi vi racconterò racconterò dopo. Quindi questo è un po' il quadro sinteticamente che spero abbia fatto venire un po' di acquolina e quindi vi aspettiamo. Grazie. Buonasera. I have to excuse myself for not being present in Rome, actually. Can you hear me? Yes. Okay. Devo scusarmi. Ma indiferenza a Rubens non parla italiano. So I not only regret not speaking Italian, but also I regret that I can't be with you. But I can present my lecture from at Stuttgart and I hope to introduce shortly the Corpus Rubinianum project and how it was infected by the exhibition in Genoa and the research done for that and how the exhibition is reflected also in the corpus. The Corpus Rubinianum was and is the biggest project devoted to one single artist in trying to publish his catalogue resume. It was Ludwig Brugger who had the intention to do such a new catalogue resume and he sorted out and planned a work to be edited in five volumes of which nothing appeared. He collected all his lifelong material but never published anything more than this small sheet in which the forthcoming books should be presented. Edition in five volumes. He died before the first was published and left his note to the city of Antwerp. After the city of Antwerp got all his notes and documentation they had the intention to publish the work that the book had never published. So the project was started initially by Roger Dulles and Franz Baudouin who started publishing and found authors over the following years. The first volume appeared in 1968 and in the following years volume by volume appeared first edited by Dürer and Baudouin later by Hans Fliecher. In 2009 a bulk of volumes was published but it was so slow that one should not think that it would ever be finished. there were 28 parts planned and only 12 of them had appeared at that moment. Then Anna Barlis took over and a new founding was found with the Rubinianum Fund and Thomas Lyson and after that lots of volumes were published. Anna Barlis between 2012 or even 2010 and 2019 realized nearly as many volumes as were published in the years before. The last three parts he edited was a two volume part on the head studies and one on Rubin's portraits of unidentified or formerly unidentified sitters mostly from Antwerp. Anna Barlis passed away in 2021. I deeply miss him personally and I'm deeply honored that I was selected to follow him up and to finish this work that has to be finished because of the end of funding in 2024. In this year we made it to publish three further parts that are five volumes this is one on the anatomical studies two volumes on the Rubin's House and two volumes on mythological paintings these three volumes were the first that I had to publish but it was started out under Anna Barlis so he did the first editorial work for the first part of the Rubin's House volume and before he died then I took over and it is thanks to the editor of the mythologies volume Liz McGrath that the work could go further and now it's the plan to have the next three volumes published next year on Madonna's on the Midici cycle and on works in collaboration and in 2024 we will have the last four volumes as is planned today then the last part of the project volume 29 addenda and corrigenda will not be published as a book anymore it will become a database where we bring in all the new findings all the new paintings and all the things that we found out in the exhibition in Genoa for example so to show the example we can use the picture that is a promo picture for our Genoist show it's nicely presented in Genoa and good to see there because how goes who goes to basket park in Oxfordshire to see this painting this was published in the first volume on portraits by Frances Humer and she based what she wrote on the notes of Ludwig Burkhardt he knew this portrait very well because he was based in England and he had long before he moved to England published about it in an article a German article on the Genoese female portraits that Rubens did the first publication on the portraits Rubens did in Genoa and he knew this portrait very well but he also knew the portraits of the two ladies that were also cataloged in Leta di Rubens by Boccano and Orlando and he knew them but Frances Humer left them out it is the merit of Anna Orlando not only to have brought these portraits back to light but give the ladies their names they were left out by Frances Humer because the sorting that Ludwig Burkhardt had for his files was not easy to understand and so they were not included in the volume on the portraits although Burkhardt had files at least on the Bucharest lady which was given a name by Anna Orlando and which was exhibited not in Stuttgart but in Genoa we planned to have them both together because the story they tell or we can tell about them is something that could also enrich the corpus it's not the time here to bring this in a broad sense but it's something that will be published in Adenda and Corrigenda also case for Adenda and Corrigenda and also thanks to Anna Orlando we have as she showed the sketch in knowledge that is included in the volume on saints by Hans Vlieger but what was not included is the version that Anna Orlando found in a private collection and what was the modello sent to Genoa in the 17th century having a great provenance and enriching our knowledge on this wonderful piece in a German church one more addendum another addendum a lady's portrait a portrait of a lady in morn a portrait of a muntran lady this portrait is also long known to Roman scholars and was also known to Ludwig Borchard it is first mentioned in the inventory of the English king in the mid 17th century where it is mentioned as a muntour piece above my law of mormon's door a woman's picture in a black habitant scarf said to be done by rubens when he was in Italy this portrait resurfaced in an auction in Munich and as to be seen in an x-ray it was changed deeply from a muntran court lady it was reworked into a lady in morn this change in the portrait is not the only thing that has to be mentioned but it was even also forgotten to be treated in the corpus and had not found a place in rubens's ovary yet but it will have to be published in the addenda and corrigenda volume and this is also a sort of outcome of this exhibition project as also another painting that we can show in the exhibition actually in Genoa that resurfaced only some years ago in a slightly different form from what we see today this picture that is shown in this way in the exhibition is slightly virtual because it has to be this way it was the version that is to be seen in the exhibition yet created by a restorer who did not understand Rubens and who did not understand what Rubens shows what Rubens showed was mother Mary meeting her son in heaven and this meeting of mother and son is a painting of his own right but this painting was produced in an overpainting of another composition that is still present underneath what was the surface before the restorer destroyed this painting the composition that also before was known by a print by Van Panderen who showed Mary interceding in front of her son for someone who is in front of the picture to be sawed as an altarpiece and this composition was later changed and as easily as to be seen the composition is underneath the initial painting as to be seen in the x-ray image and can be shown in comparing the x-ray composition with the reverted print what it also shows is that the trial of the restorer to bring back this composition will destroy or nearly destroyed the other composition because the Mary kneeling is one of the best parts of the picture and something where most Rubens experts that have seen the painting now in general say this kneeling Mary in the blue coat is the one that is painted by Rubens there's more of Rubens in this figure than in all the rest of the painting so now we have two Marys and I deeply hope that one will be at one time removed to reconstruct the original Rubens composition but this whole story of the painting and its changes is something that has to be told at another time more complete but it's one more example how the work for the exhibition and with the exhibition affects the Corpus Rubinianum project and that's what I shortly wanted to present to you now so thank you very much for having me eccomi quindi la seconda parte di questo di questo intervento era perché appunto al centro di questo incontro su suggerimento appunto di Sabine abbiamo pensato di sottolineare un po' come vi ha raccontato Nils quali sono le più significative aggiunte alla conoscenza del corpus di opere di Rubens ma l'altro aspetto è come siamo arrivati come si arriva a questo tipo di scoperte chiamiamole così perché ovviamente sì un po' di fortuna ci vuole ma poi c'è del lavoro allora la il mio intervento è attraverso qualche caso particolare singolare per far capire il metodo che io ho condotto con cui ho condotto le ricerche innanzitutto ovviamente lavorando insieme ad altre persone un'equip di persone che lavorano in archivio con il quale mi confronto per esempio dove c'è Andrea Lercari che ha fatto un testo in catalogo è un ottimo conoscitore del patriziato genovese dal punto di vista più storico delle ricerche d'archivio Flavia Gattiglia è un ottimo archivista insomma diciamo Michela Cucicea è un'esperta di tessuti di accessori sempre attraverso le ricerche d'archivio quindi diciamo che il senso è quello dell'incrocio dei dati che è diciamo di per sé abbastanza banale io sono sempre bravissima come vedete nel e questo incrocio dei dati è stato fondamentale negli anni nel tempo per fare emergere cose che senza appunto l'incrocio tra una notizia e un'altra non non venivano fuori il tutto però in una parola sola è quello che riesce a restituire il contesto e qui si capisce secondo me l'importanza del lavorare sul territorio della conoscenza più ampia del territorio e l'importanza di conoscere anche tutto quello che sta attorno uno dei lavori è stato proprio il setacciare le fonti leggerle rileggerle dove si rintracciano notizie anche come questa che io ho riportato perché sono curiose in mostra e ti fanno proprio capire un po' com'era al di là delle notizie della storia con la S maiuscola qual è invece la vita di tutti i giorni l'entrare nella vita di tutti i giorni di queste persone che sono i committenti di Rubens e gli effigiati di Rubens il volere sapere tutto di loro quando sono nate quando si sono sposate dove si sono sposati quanti figli hanno proprio entrare nella loro vita è quello che mi ha consentito di farle riemergere e di associare un nome dei nomi nomi e cognomi che soprattutto a chi non è genovese sembravano tutti uguali perché sono nomi che si ripetono famiglie che sono in rami diversi e che quindi se non conosci come è strutturata una famiglia non ti ci orienti quindi questo lavoro è stato proprio quello di far dare un volto una fisionomia a ogni singolo personaggio che faceva parte di questa scacchiera della delle committenze rubensiane con la consapevolezza che si deve partire per capire Genova fino in fondo e Rubens lo aveva capito che in questo momento Genova è una repubblica di famiglie non c'è una corte ci sono tante piccole corti le famiglie si alternano il potere è una città come mi ha insegnato a capire Rubens Nils che Rubens ha apprezzato perché era in pace era una città che si era una repubblica che si era saputa organizzare dal punto di vista governativo proprio diciamo anche legislativo con un'alternanza del potere di questa oligarchia questa distribuzione del potere che creava quindi una pace e la pace come è noto poi porta anche la ricchezza ricchezza che non è condivisa da tutti c'è il popolo è in mano di pochi ma è anche una convivenza che è anche una ricchezza che i genovesi hanno condiviso sempre con le classi inferiori creando un clima di assoluta armonia e convivenza sociale che anche in questo crea questo contesto assolutamente favorevole per le arti e fertile e per per gli artisti in queste diciamo contrasti però sempre gestiti il contesto se i quadri non vengono riportati e ricondotti nel loro contesto di origine perdono tutta una parte di informazioni che ci impediscono una loro completa comprensione dunque adesso Rubens aveva capito che la caratteristica più importante di Genova era proprio questo di essere una città fatta di famiglie una corte di famiglie e quindi i palazzi li aveva li aveva presi a modello proprio perché erano a misura di famiglie benché numerose di gentiluomi aveva avuto rapporti stretti con questi personaggi noi sappiamo che ci sono tanti documenti che erano già conosciuti e dai quali ovviamente si deve partire ma poi il grosso lavoro è stato questo il grosso lavoro è stato quello di approfondire ciascuna ciascuno dei protagonisti che tra l'altro via via venivano fuori partendo da quelli che si conoscevano quindi a partire da Nicolò Pallavicino banchiere principale banchiere del Duca di Mantua uno dei quattro fratelli che paga e finanzia la chiesa del Gesù la costruzione della nuova chiesa del Gesù e della casa professa fratello di Marcello Pallavicino il gesuita fratello di Giulio Pallavicino il poeta figlio di Agostino Pallavicino che costruisce il palazzo queste cose si sapevano da queste cose da queste informazioni io sono andata avanti a cercare e a inseguire tutte quelle notizie che sono apparentemente poco significative per la storia dell'arte come può essere un battesimo una nascita e quindi ricostruire in modo capillare un lavoro di anni gli alberi genealogici all'interno di questo ginepraio perché questo è pian pianino sono venute fuori invece l'evidenza del fatto che si potevano associare ai nomi che apparivano in realtà dei quadri o delle committenze quindi o delle effigiate in particolare o effigiate anche il figlio di Nicolò oppure delle commissioni tutto è partito in realtà nel 2017 studiando questo che non è un quadro di Rubens è un ritratto che è amministratto presentato da studiare come anonimo anonimo dal punto di vista sia del pittore sia dell'effigiata l'ho riconosciuto come opera di Van Deynem questo artista che è fiammingo e che viene a Genova prima di Rubens molto poco studiato ma di grande qualità la qualità ci insegna ci dà il là per ci suggerisce che vale la pena di approfondire e quindi torno a questo a questo dipinto che è di bellissima qualità e che è in mostra e io ho voluto capire chi fosse questa dama perché è evidente che questa dama è una dama che appartiene al più alto patriziato per quello che porta addosso e ho avuto una fortuna la fortuna di ovviamente guardando i dettagli i ritratti li capisci se non ti non ti fai mancare proprio nessuno non dimentichi di osservare nessuno dei dettagli presenti e questo è proprio il caso più emblematico perché è proprio un dettaglio da cui è cominciata tutta la storia di queste scoperte delle dame rubensiane che si sono poi venute via via l'una di seguito all'altra come in una catena tutto è partito da questi orecchini avevo notato che erano di una foggia assolutamente particolare e quindi ho pensato che essendo così particolari si sarebbero potuti trovare in un inventario e quindi ovviamente ho battuto tutti gli inventari pubblicati semi pubblicati quelli che avevamo raccolto negli anni e ho trovato questo paio di pendini di perle raspo d'uva indossati da la moglie di Geronimo Serra e quindi e qui è cominciata la storia ovviamente i ritratti uno sarebbe sempre tentato di studiarli dal punto di vista delle somiglianze e questo è un grosso errore a Genova poi è un errore madornale perché ancora adesso siamo tutti cugini nel seicento erano tutti doppiamente cugini quindi diciamo veramente il tema della somiglianza è proprio prendere una strada sbagliata quindi bisogna provare ad accantonare anche se ovviamente poi qualche suggerimento te lo possono dare ecco che il paro di pendini de perle raspo d'uva dell'inventario del 1617 mi ha portato a voler sapere tutto di Veronica l'inventario dava delle informazioni anche su tutto quello che portava per cui per dire sappiamo anche quanto valevano le cose con gli oggetti gli accessori come i termini che venivano usati questo è un pannello per esempio dimostra la collana che Veronica porta è il primo dei gioielli della lista di questo inventario del 1617 sono 125 perle che costavano avevano il valore di 8000 lire che cosa vuol dire 8000 lire mi sono divertito ovviamente a vedere cosa voleva dire di 8000 lire ho capito che Rubens avrebbe dovuto lavorare 6 anni e mezzo investire 6 anni e mezzo del suo stipendio per il quale si lamentava sempre ma insomma comunque era pur sempre uno stipendio per pagare la collana di Vedronica e qui qualche altro diciamo paragone per capire anche l'entità di queste di queste dame altri indizi importanti proprio per capire come i ritratti vanno studiati guardando veramente i dettagli in modo particolare sono per esempio il fatto che avevano il setting tutti uguali queste queste dame e non solo il setting ma anche la posa e in alcuni casi anche i vestiti l'idea della tenda la tenda è uguale ma porta degli scacchi diversi però attenzione è stato fatto un errore in passato perché lo scacco rosso e bianco può essere sia degli spinola sia dei serra quindi bisogna sempre ogni dato singolarmente non è sufficiente e l'incrocio dei dati ha portato per esempio a constatare a fare un ragionamento quello di dire se hanno gli stessi vestiti lo stesso identico setting solo dame di una stessa famiglia può accettare una replica di questo tipo perché se i ritratti delle genovesi sono una decina è chiaro che una dama di una famiglia diversa non avrebbe mai accettato di essere identica questo è lo stesso ragionamento che mi ha consentito di capire che erano cognate le due dame che vi ha fatto vedere Nils prima quella di Bucharest e quella di collezione privata sono identiche nel setting perché sono due cognate quindi attraverso questo tipo di ragionamenti vedete che è venuto fuori si sapeva il nome di Maria Serra Pallavicino quindi la moglie del Duca di Mantua che è quella che vedete alla vostra qua alla vostra sinistra e e quindi in questa scacchiera dell'albero genealogico ecco pian pianino venire fuori tutte le dame sulla base della generazione di quando erano nate della generazione eccetera la stessa cosa Stoccarda il quadro di Stoccarda l'abbiamo capito proprio in diretta quando eravamo insieme Nils ed io aprendo l'albero genealogico e constatando che la mamma di Veronica era diventata vedova esattamente nel 1604 che la sua figlia era nata e la primogenita era nata in quell'anno che consentiva una perfetta possibilità di età rispetto al quadro eseguito nel 1604 e così via c'è proprio una un parallelo stretto uno stretto collegamento tra documenti inventari alberi genealogici e indizi all'interno dei quadri quindi in mostra abbiamo la mamma abbiamo Veronica nella stanza dopo sua mamma e sua figlia e la sorella quindi è questa famiglia ricostruita e devo dire che questo grande albero genealogico che occupa tutta una parete è una delle cose che diverte di più il pubblico pur nella difficoltà di andarlo a leggere quindi l'altra cosa che di fatto si riesce quindi oggi a dimostrare è che più della metà dei dipinti di Rubens eseguiti per i genovesi è pertinente a queste due famiglie che si imparentano tra loro quella di Nicolò Pallavicino e quella di Geronimo Serra legato a Nicolò Pallavicino è un'altra figura che è il genero Pietro Maria Gentile una figura che non era quasi stata indagata si conosceva un inventario del 1811 si era capito che questa collezione veniva probabilmente da Pietro Maria Gentile seicentesco ma poi non si era approfondito a sufficienza e volendo sapere tutto su Pietro Maria Gentile ho trovato diversi testamenti diversi documenti sappiamo esattamente dove viveva sappiamo che a 18 anni era ricchissimo sappiamo che è quindi lui che compra da Rubens che prende e acquista a metà degli anni trenta si fa mandare da Anversa questi due dipinti che hanno anche un significato rispetto alla figura che è venuto qua lui è stato prigioniero cinque anni e quindi è un eroe della patria quindi capisci anche Ercole e così via e poi questo importante ritrovamento che vi ha che vi ha detto Nils perché sapevamo dalle fonti non solo dall'inventario del 1811 ma anche dalle descrizioni precedenti che esisteva nella casa di Pietro Maria Gentile il genero di Nicolò Pallavicino un bozzetto o modelletto che era era relativo a questa pala d'altare che appunto aveva voluto Nicolò Pallavicino ma che morto non in tempo morto prima di riuscire a realizzare questo suo sogno affida al genero che stimava lo vediamo dai documenti molto più del figlio lo incarica sostanzialmente di seguire questa e allora che cosa che cosa succede se noi ci fermiamo solo dal punto di vista mero dell'attribuzione il confronto con Dalic reso possibile proprio perché questo ritrovamento mi ha fatto incuriosire la direttrice di Dalic che ai primi d'agosto ha detto voglio prestarvi anche la nostra tavola perché così finalmente li vediamo insieme perché sono non sono insieme praticamente da quando erano nella bottega di Rubens quindi è interessante vedere ovviamente la diversa modalità con cui sono eseguiti uno eseguito su tavola quello di Dalic che è esattamente la tecnica secondo gli studiosi specialisti di Rubens è quella che proprio lui utilizzava per i suoi bozzetti l'altro eseguito su tela questo diverso modalità di essere eseguito perché è molto più fine e il supporto insolito per gli sketch rubensiani potrebbe portare a escludere dall'autografia di Rubens questo modelletto che dobbiamo chiamare a tutti gli effetti modelletto se non fosse che il fatto che venga inviato da Rubens a Pietro Maria Gentile genero di Don Colò il quale Nicolò è da Rubens chiamato per fare il padrino al proprio figlio con cui continua a rimanere in rapport è chiaro che questo dato documentario ci fa capire che dobbiamo essere un pochettino più prudenti prima di scartarlo solo su base la nostra ricostruzione è che questo sia il modelletto su tela che non potendo andare Pietro Maria ad Anversa viene inviato a Genova e quindi arrotolato e molto più facilmente spedibile su tela e rimane presso il committente quando lo sketch rimane in bottega e poi Rubens realizza la sua cosa altri ritrovamenti importanti riguardano Ambrogio Spinola che è uno dei più noti più importanti amici di Rubens committenti ne conosciamo il ritratto quello a Praga eccetera anche lui alla fin fine è collegato a questa famiglia come vedete da questo schema il suo figlio Filippo e sua figlia Polissena sono collegati a due ritrovamenti importanti che proponiamo nella mostra abbiamo detto che erano che erano amici il San Sebastiano che vedete in mostra nuova versione rispetto a quella più nota di di Palazzo Corsini Galleria Nazionale di Palazzo Corsini qui a Roma e il Rodolfo I d'Asburgo presentato poi in anteprima ritrovato che è una seconda versione della tela più nota del Prado di nuovo delle informazioni di provenienza ci consentono di collegare la proprietà di questi due pezzi questi due opere una al figlio Filippo e l'altra alla figlia Polissena di Ambrogio Spinola allora con la premessa del fatto che erano così amici che si frequentano quando Rubens torna ad Anversa per diversi anni è molto difficile che Rubens abbia tirato un bidone al suo amico che ha praticato familiarmente quindi come minimo dobbiamo metterci in come dire in ascolto in una e quindi la valuta la valutazione attributiva diciamo che l'occhio fa la sua parte e dall'altra parte dobbiamo prendere in seria considerazione queste informazioni di provenienza e accessori sia per quanto riguarda appunto l'opera di rispetto all'opera di Madrid sia rispetto all'opera della Galleria Nazionale di Palazzo Corsini c'è stato una parte di uno storico che però non avendo incrociato i dati non essendo uno storico dell'arte non aveva capito l'importanza del suo ritrovamento è stato trovato l'inventario del scusate un testamento del figlio di Ambrogio Spinola che menziona il San Sebastiano di Rubens è un è un testamento del 1660 quindi un testamento molto molto vicino alla all'esecuzione del del dipinto e quindi diciamo che sfido a dimostrare il contrario sfido a che qualcuno mi dimostri che non è stato dipinto questo quadro per Ambrogio Spinola che non è stato lasciato da Ambrogio Spinola a suo figlio Filippo e da lui presso la discendenza perché poi abbiamo tutti i documenti fino alla ad anni molto più molto più vicini mi rendo conto che essere sintetici in cose così complesse è abbastanza difficile non so quanto quanto questo sia risultato chiaro se non altro vi sarà vi sarà chiara la complessità nel tipo di lavoro e la complessità di queste di queste di queste ricerche grazie grazie alla direttrice all'Accademia Belgica per avermi invitato qua questa sera assieme alla mia amica Anna Orlando con cui ho condiviso questa avventura rubensiana e a Nilso ovviamente che mi dispiace non vedere qua questa sera ma uno sì uno no sta per essere in continuazione colpito dal covid dunque Rubens Mantua e Genova questo è un tema su cui con Anna abbiamo subito da subito cominciato a ragionare perché se da una parte Rubens ama moltissimo la città di Genova che come detto giustamente è la più vicina ad Anversa è la più liberale dall'altra parte viene ingaggiato come salariato da una corte quella stessa corte che aveva rapporti strettissimi con la corte di Bruxelles con cui lui stesso aveva rapporti molto stretti quindi Rubens fin da subito vive questa dicotomia da una parte è salariato del magnifico Pascià di Mantua come lo chiamano ormai in tutta Europa cioè Vincenzo Primo Gonzaga e diventa il suo servitore nel senso più alto del termine cioè sta al suo servizio ed una persona lui familiare il suo familiare vuol dire che come i grandi monarchi stava nella famiglia del Duca vuol dire che era il più vicino possibile al Duca mentre Franz Purbus era il pittore della Chiave d'Oro come dice Federico Zuccheri secondo una consuetudine tutta spagnola e quindi poteva entrare nelle stanze del Duca Rubens era un suo familiare questo vuol dire che lo accompagnava veramente come un familiare ovunque e soprattutto a Genova Genova diventa per Rubens un punto di riferimento fondamentale perché da una parte ci sono amici probabilmente pittori come questo che ha citato prima Anna interessantissimo che in mostra è stato così ben documentato e dall'altra perché ci sono i banchieri che finanziano finanziano il Duca di Mantua e quindi era necessario fin da subito cominciare a discernere questa materia dei documenti gonzagheschi documenti gonzagheschi che per quanto riguarda Genova non erano stati compresi in questa mappatura a cui avevamo lavorato per più di dieci anni e che era confluita in questo collana di dodici volumi sulle collezioni gonzaghe quindi sulla corrispondenza gonzaghesca abbiamo fatto molte città alcune divise di quindici anni in quindici anni come Roma Venezia però altre complete come Milano Firenze e Genova non l'abbiamo fatta non l'abbiamo fatta non perché non avevamo voglia ma perché a un certo punto questo progetto si è chiuso e quindi avevamo la corte Cesarea ma non avevamo Genova non perché Genova fosse meno importante ma in un archivio così complesso come quello Gonzaga Genova aveva un numero di faldoni inferiore rispetto ad altre città che erano cruciali come per esempio la corte la corte Cesarea piuttosto che Roma piuttosto che Venezia piuttosto che Firenze quindi abbiamo dovuto fare delle diciamo delle scelte ma certo che singolarmente avevo più volte aperto le buste genovesi salvo poi capire che scegliendo una busta non si entra nel panorama dell'archivio Gonzaga l'archivio Gonzaga è una una delle grandi fortune italiane perché è un archivio non è completo però è un archivio eh molto molto ehm sofisticato lo è proprio perché Vincenzo Gonzaga lo vuole molto sofisticato d'altra parte la cancelleria mantovana già eh esisteva nel mille trecentotrentotto quindi a dimostrazione del fatto che per la corte che ancora non era ducale ma era un marchesato avere la cancelleria significava avere eh le poste in casa significava avere il registro di tutto bene però Vincenzo Gonzaga nel mille cinquecentonovantuno fa una riforma e la fa attraverso un personaggio che è importantissimo che incontriamo in tutti i documenti che è Tullio Petrozzani che è sopraintendente di tutti gli affari di Mantua e del Monferrato bene nel mille cinquecentonovantuno attraverso Tullio Petrozzani la macchina dell'archivio di stato di l'archivio Gonzaga ora in archivio depositato presso l'archivio Gonzaga diventa una macchina perfetta precisissima eh la cancelleria aveva d'altra parte molteplici e importantissimi incarichi come la produzione l'autenticazione la la conservazione degli arti degli atti interni così come la ricezione il vaglio lo smistamento e anche la predisposizione della risposta per delle missive che giungevano a corte eh Vincenzo Gonzaga voleva essere al centro della scena e lo sarà veramente per gli anni in cui vivrà fino al 1612 ed è come lo chiamano tutti i gran pascià di Mantua perché quando si trasferisce a Buda a combattere contro i turchi battaglia che perderà ma questo non importa eh non entrerà mai nella cittadella di Buda però parte da Mantua va con eh cinquecento cavalieri cinquecento cavalli tutti vestiti con le insegne del duca di Mantua e costruirà una cittadella fatta di tende sotto Buda in cui ehm organizzava delle feste memorabili per tutti per tutti gli alleati quindi diventa veramente il gran pascià lo chiamano il gran pascià di Mantua bene però questo Vincenzo Gonzaga che era veramente al centro della scena ne abbiamo già parlato infinite volte come con le collezionista onnivoro e al contatto con tutta quanto quello che c'era di più eh sofisticato nell'Europa di quegli anni ha chiaro che una cancelleria perfetta gli permette di avere delle relazioni con tutto il mondo conosciuto in quel momento ecco che allora eh grazie a Tullio Petrozzani eh i consiglieri sotto di lui passano da tre a sette nel mille cinquecento novanta due e ognuno di questi aveva il compito di seguire gli affari di una delle varie corti quindi ognuno aveva la corte cesarea rapporti con Roma rapporti con Genova i rapporti con Venezia i rapporti con Firenze aveva chiaro che doveva mh non centralizzare ma avere una rete che gli potesse eh garantire eh l'informazione perfetta cosa facevano questi sette consiglieri i sette consiglieri costodivano e aggiornavano i cifrari ovviamente di cui mantenevano una copia per ogni consigliere più una copia per il Duca e loro avevano i sigilli ducali quindi i responsabili dei sigilli ducali e sotto i consiglieri c'erano i segretari e i cancellieri i segretari annotavano entro due settimane eh veramente un tempo brevissimo le lettere personali del Duca su appositi registri che venivano controllati ogni due mesi dal consigliere preposto quindi coordinavano le notizie estere e redigevano le risposte cosa facevano a questo punto i cancellieri cancellieri che erano sottoposti ai segretari registravano e reporteriavano gli atti prodotti spediti dalla corte in appositi cataloghi bene tutta questo sistema produceva due tipologie di documenti la corrispondenza estera che con buste divise per provenienza che sono quelle che di solito sono state utilizzate normalmente dagli studiosi eh però però per ogni stato estero c'è una divisione in tre nuclei inviati a residenti rignanti e diversi e poi c'è la corrispondenza interna che è stata una corrispondenza molto negletta e che invece ci ha dato le soddisfazioni più più importanti negli ultimi anni perché la corrispondenza interna era divisa in quattro nuclei originali copia lettere che sono quelle che noi guardiamo regolarmente minute e la terza più negletta paesi dai paesi e dalle minute emergono le cose più importanti degli ultimi anni perché ovviamente le grandi lettere dei grandi artisti erano già state repertorializzate alla fine dell'ottocento alle prime del novecento tutto quello che emergeva attraverso diciamo una disamina più veloce è tutto quello che è finito dentro Luzio ma poi c'è molto altro ecco allora Genova era una è stata come le altre una città che aveva bisogno di questo controllo cioè tutto gli inviati diversi quindi la corrispondenza estera ma anche la corrispondenza interna e quando abbiamo cominciato a parlarne con Anna abbiamo detto bisogna fare tutta Genova e quindi ho coinvolto Cecilia Paolini e durante il lockdown Cecilia personalmente abbiamo organizzato in modo che andasse con una macchina fotografica e ha fotografato tutto quindi abbiamo tutta Genova e pian piano abbiamo cominciato a leggerla a leggerla e far emergere le cose più importanti ma non solo quelle che noi non riuscivamo a intrecciare cioè le ricerche che stava facendo Anna nello stesso momento con le sue famiglie genovese cugini genovesi che a noi sembravano un po' tutti uguali come d'altra parte un po' tutti uguali sembrano i Gonzaga io continuo a leggere Vincenzo II invece di Vincenzo I o Francesco I o Francesco III cioè chi ha più ne ha più ne metta le mogli le amanti le figlie le nuore i cugini ecco per me sono un po' dei familiari come per Anna sono familiari i suoi genovesi a questo punto abbiamo messo assieme Genova con Mantova in una cerniera che ha dato dei risultati e continua a dare dei risultati perché man mano che continuiamo a magari leggere cose che abbiamo già letto ma alla luce di queste nuove ricerche stanno emergendo altre piccole connessioni veramente piccole connessioni che però ci portano a relazionare il microcosmo con il grande macrocosmo e un po' il tessuto della mostra che Anna e Nils hanno costruito su Genova si relaziona a questo sistema di macro e di micro cioè che cosa altro possiamo costruire all'interno di questa rete dentro questa rete ci sono mille maglie ancora che hanno bisogno di essere in qualche modo riprese vanno un po' ricamate con dei punti di sutura perché ci sono dei punti di sutura che non corrispondono e quindi la prima cosa che è apparsa era che il rapporto che la corte mantavana aveva con l'aristocrazia genovese era un rapporto di grandissima di deferenza nei confronti del duca del duca di Mantova il duca era magnifico era un duca aveva una corte aveva il monferrato che ce l'aveva dal 1575 grazie al padre Guglielmo che era quello che gli aveva lasciato tutto questo immenso patrimonio che poi lui in qualche modo alleggerisce grazie alla sua pompa e quindi l'aristocrazia genovese e soprattutto le grandi famiglie neggeronevesi guardano a Vincenzo come veramente al grande il grande pascià il grande duca questo duca che ha una corte con più di 500 bocche da sfamare dove ci sono poeti letterati musicisti saltimbanchi teatranti cantanti con cui poi lui ha degli affaire amorosi e insomma una corte veramente molto diversa dalla società genovese che come ormai ci ha insegnato Anna e tutti gli studi su Genova che da lì seguono era una corte piuttosto austera eppure si appassionavano molto a queste eccentricità del duca di Mantua quando arrivava il duca di Mantua cominciava una serie di feste e le dame che Rubens immortala e che Anna ha identificato via via per noi una volta sembrano tutte spinole d'ori adesso lei ci ha insegnato chi sono esattamente il rapporto tra moglie marito nipote e figlia si facevano fare finalmente dei bellissimi vestiti avevano l'opportunità di andare a queste feste dove c'era il duca di Mantua che impazzava in balli sempre alla moda sempre grandi alla moda e quindi i genovesi mettevano a disposizione tutti i loro servigi diplomatici militari ma soprattutto le loro finanze e il patrimonio immobiliare che era ricchissimo con chi ha rapporto invece Vincenzo Gonzaga beh dalla corrispondenza che abbiamo vagliato praticamente quasi tutta risponde per proprio conto quindi di propria mano soltanto a pochissimi interlocutori tra cui continuativamente con Ambrogio Spinola e con Niccolò Pallavecino che abbiamo visto che abbiamo visto prima che cosa faceva Vincenzo Vincenzo concedeva con grande munificenza privilegi non aveva altro aveva privilegi e feudi che facevano parte del proprio Ducato soprattutto i feudi del Monferrato che guarda caso un po' confinavano con i territori i territori della Repubblica ecco a fronte di tanta prodigalità il Ducca poteva disporre di un flusso di denaro illimitato da anticipare per suo conto oltre alla messa a disposizione di servigi di varia natura quindi insomma la corte di Mantua dipendeva dai soldi dei genovesi in sintesi la corte di Mantua dipendeva in tutto e per tutto dalla liquidità grande liquidità dei banchieri genovesi è un po' bizzarro oggi vi faccio vedere questo perché questo che vi faccio questa immagine è l'archivio di stato di oggi e l'archivio di stato di Mantua si trova nella chiesa della Santissima Trinità la chiesa della Santissima Trinità dove ci stavano di tre pazzesche tele della Trinità sono appena stata ad Anversa a vedere la nuova sistemazione del museo una sta ad Anversa e quella centrale purtroppo molto rabberciata l'avrei preferita a Bucata perché così avremmo capito com'era a Palazzo Ducale a Mantua bene e proprio in questa chiesa che era la chiesa dei Gesuiti che era collegata alla Universitas dei Gesuiti e quindi dove c'è l'archivio di stato di oggi e il liceo in questa chiesa c'era la Trinità di Rubens e oggi è diventata la custode dell'archivio di stato dove stavano proprio le carte stavano proprio le carte Gonzaga quindi Rubens si ritrova citato dentro dei documenti dentro la chiesa della Trinità dove ci stavano le sue opere che ora non ci sono più insomma un po' la storia che rimescola che rimescola le carte bene sono incartata qua allora quando 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 è la prima volta che incrociamo Rubens e Genova Rubens e Genova lo incrociamo fin da subito fin dall'inizio appena Rubens arriva arriva e abbiamo un documento in cui abbiamo una certezza che lui passa per Genova quando quando arriva nell'estate del 1600 come primo atto ufficiale presso i Gonzaga Rubens come famiglio subito accompagna Vincenzo e la moglie Eleonora dei Medici niente meno dove alle nozze per procura a Firenze di Maria De Medici cosa che poi lui ricorderà come è stato pubblicato in un libro che abbiamo procurato e che viene da un convegno del 2018 dove c'erano alcuni qua in sala e si ritrae si autoritrae vuole autoritrarsi proprio in quelle scene di Maria De Medici al Palais di Luxemburg in una dove c'è il matrimonio per procura lui c'è lui c'è cioè vuole lasciare il suo segno per lui è stato molto importante evidentemente perché a distanza di tanti anni ci tiene a ricordare che lui era lì presente Vincenzo Gonzaga con Rubens e tutta la corte ritorna a Mantova da Firenze il 13 ottobre ma sette giorni dopo ci sono già delle testimonianze di una sua imminente partenza per Genova Vincenzo non stava mai a corte mai mai era sempre in giro per l'Europa quindi si trasferisce a Genova dove venne accolto con grandi onori ed è probabile che Rubens accompagni Vincenzo subito dopo anche in Terra Libure come suo cortigiano i preparativi di tali viaggio sono descritti in due missive indirezzate da Giovanni Battista Prato al Duca di Mantova il 22 e il 24 ottobre del 1600 e ovviamente c'è una grande festa dove si racconta una grande festa in onore di Vincenzo una del 6 novembre descritta da Niccolò Bellone in un'altra lettera e una datata due giorni dopo indirizzata da Giovanni Battista Prato al Duca di Mantova poi facciamo un salto temporale che sembra poco per Rubens ma è tantissimo per noi che lo studiamo e arriviamo al 1604 Rubens ritorna dalla missione diplomatica in Spagna affidatagli dal Duca di Mantova per portare dei doni notissimi alla corte di Filippo la prova della tappa ligure in questo caso è in diretta il 22 giugno del 1604 infatti Francesco Pasolini che è un contabile di Vincenzo Gonzaga scrive a Annibale Iberti questo che abbiamo visto prima eccolo qua no questo è chi è che scusa Annibale Iberti scrive che di essersi impegnato a ottenere la nota spede al saldo di 1200 reali consegnati a Rubens non direttamente dai Berti ma per suo conto quindi è verosimile che Rubens si sia imbarcato da Valladolid per raggiungere Genova dove Niccolò Ballavicino ovviamente banchiere della corte la avrebbe risarcito con 1200 reali che comprendevano tutte le spese di viaggio per conte di Berti che viene liquidato successivamente arriviamo alla fine del 1605 in una lettera importante che è stata trovata prima di questa campagna genovese da Cecilia Paolini che è stata resa nota nel convegno del 2018 e quindi poi pubblicata dove Rubens è attestato a Genova il 29 novembre Annibale Iberti partito da Genova per raggiungere Nizza due giorni prima scrive una lettera purtroppo non abbiamo il destinatario quindi non saprei dire perché non abbiamo il destinatario evidentemente era una lettera che è arrivata via mano da qualcuno e si legge et al signor Pietro Paolo se ancora in coteste parti me lo saluti eccetera eccetera Iberti che da qualche tempo si trovava nella Repubblica Genovese racconta in questa lettera di essere partito per nave la settimana precedente di aver fatto tappa a Savona dove è stato costretto a fermarsi due giorni a causa di un grande evento contrario cioè non poteva andare avanti e scrive da Nizza dove sta attendendo Pietro Leonardo Roncas che è il primo ministro e ambasciatore di Carlo Emanuele I di Savoia e fa riferimento in questa lettera alla signora duchessa che questa signora duchessa probabilmente è la seconda moglie di Carlo Emanuele I che è Margherita di Roussillon e dice che la duchessa è alloggiata temporaneamente in una dimora presso Villa Franca in un'unigiana di proprietà di Maria Doria la Maria Doria adesso non so Anna se tu mi segui perfettamente ma forse non tutti seguono così Maria Doria era la moglie di Gaspare Spinola nonché madre di Brigida e quindi c'è questo rapporto che passa attraverso Savona e arriva fino in Villa Franca in unigiana attraverso questa lettera bene a quell'altezza cronologica siamo arrivati al scusate qui ecco ecco questa è la missiva trovata da Cecilia nelle minute questo per dire l'importanza del leggere le minute non si trova nella corrispondenza ordinaria questa del 1605 e questa è la bellissima Brigida Spinola Doria di Washington della National Gallery bene a questa altezza cronologica siamo arrivati al 1608 ci sono rapporti strettissimi a questo punto tra Savoia e Gonzaga vi ricorderete che ci saranno le nozze poi tra il figlio di Vincenzo primo cioè Francesco Gonzaga e Margherita di Savoia bene in tali circostanze la presenza del Roncas che aveva ottenuto una rapidissima carriera finanziando Carlo Emanuele Prim in cambio di feudi ovviamente era perfettamente in linea con la linea filo spagnola filo ispanica del duca di Mantova Roncas finirà malissimo perché un anno dopo l'incontro con i Bertis viene spedito in missione diplomatica in Spagna dove viene accusato di tradimento e rimane in carcere per 23 anni quindi esce di scena Roncas nell'estate del 1607 abbiamo visto che sappiamo che Rubens è costretto a seguire Vincenzo a Genova dove è attestata la sua presenza si pensava che fosse stato ospite a Palazzo Grimaldi dal 22 giugno al 24 agosto e avrebbe dovuto poi accompagnare a Spa nelle Fiandre il duca di Mantova che voleva come al solito andare a passare le terme passare le acque come diceva lui alle terme ma poi giocava dadi giocava carte perdeva tutto e poi chiedeva ai banchieri di aiutarlo bene sempre Cecilia Paolini ha trovato una serie di documenti che circostanziano e chiarificano tale evento i fondi per il viaggio avrebbero dovuto essere a Vincenzo Gonzaga avrebbero dovuto essere anticipati da Francesco Marini che già avevamo conosciuto nel 1599 nelle Fiandre perché aveva ospitato Vincenzo Gonzaga ma in una lettera del 23 giugno del 1607 eccola qua il genovese si scusa per non aver potuto provvedere al denaro in quanto come generale delle galere della Repubblica era stato spedito in Corsica a combattere contro i pirati e per tale motivo aveva ricevuto troppo tardi la lettera di Annivale Berti con la richiesta dei fondi necessari forse abbiamo scoperto perché Vincenzo alla fine non va nelle Fiandre ecco anche questo dove una lettera improbabile da trovare un appunto quasi quindi non è una lettera ufficiale non è una lettera che si trova certamente nella corrispondenza estera ma sta dentro le minute questa è questa l'importanza di leggere nell'archivio Gonzaga trovare sempre la rispondenza non fermarsi mai soltanto alla prima bene il 26 giugno sempre di quest'anno qui Vincenzo scrive da Mantua a Niccolò Pallavicino sempre anche in una lettera delle minute e riguarda i dettagli del suo soggiorno e così scopriamo che non era atteso a casa Grimaldi ma bensì a casa di Giannettino Spinola a San Pierdarena quindi andava al mare giusto Anna? esatto esatto perché aveva male al ginocchio perché in realtà aveva la gotta aveva la gotta perché mangiava in continuazione carne di cacciagione bene per ultimo un affondo molto veloce perché è veramente tardi con un altro incrociamo un altro che avevamo già incrociato Alberto Bianco se lo ricorda perché Pompeo Targone ci abbiamo ragionato molto perché Pompeo Targone che è un ingegnere militare a servizio del comandante dell'esercito spagnolo nelle Fiandre cioè Ambrogio Spinola aveva era già conosciuto presso la corte di Mantua e grazie a suo padre Cesare che nel 1595 aveva avuto una corrispondenza con la corte bene il 26 aprile del 1601 il cardinale Pietro Aldobrandini raccomanda il giovane ingegnere Vincenzo Gonzaga che lo riceve a corte il 7 luglio 1601 ed ero simile che in tale occasione Pompeo conobbe Rubens che partì per Roma proprio una settimana dopo perché diciamo questo perché i due nel 1607 si ritrovano assieme nell'Urbe e Targone viene chiamato da Paolo Quinto per la costruzione di opere idrauliche che avrebbero dovuto risolvere le inondazioni del Tevere che non risolse assolutamente e invece Rubens era impegnata nella decorazione dell'altare maggiore della Santa Maria di Gallicella bene quando il pittore ripartì per Anversa nominò proprio Targone come perito di parte come suo perito su rappresentanze per la valutazione della pala centrale della Chiesa Nuova il 28 novembre del 1609 quindi Rubens ancora si affida a qualcuno che conosceva molto bene qualcuno che aveva avuto rapporti con i genovesi e con Ambrogio Spinola grazie questo lavoro incrociato perché il discorso che facevo su Genova ovviamente dell'incrocio all'interno di Genova è da fare come abbiamo iniziato a fare ma sicuramente dobbiamo continuare a confrontarsi a intrecciare perché le cose sono vi do due altri flash che sono venuti fuori proprio sedimentando e ragionando su tutto il materiale raccolto innanzitutto la convinzione oltre ad aver precisato un po' questi passaggi da Genova che non erano precisi non sono attestati da documenti ma ci arrivi per logica poi l'altra e questo già l'avevamo pubblicato la seconda cosa veramente importante è che sostanzialmente i ritratti dei genovesi i genovesi non li pagano sono dei doni del duca di Mantua per sdebitarsi e questo spiega perché non troveremo mai pagamento un libro di conti spiega perché sono così tanti spiega perché sono sempre io ci sono arrivata al contrario ma perché più della metà dei ritratti sono tutti della stessa famiglia perché glieli dà per tenerseli buoni e fa quello che fa quando manda il suo pittore alla corte di Spagna fa quello che voleva fare quando lo vuole mandare in Francia e lui dice no non ci vado perché in Francia si sarebbe annoiato mortalmente invece a Genova ci viene perché si diverte si trova bene perché parla con i suoi amici poeti eletterati perché le donne sono le più belle d'Europa e così via è tant'è vero che il primo modo di sdebitarsi da parte di Vincenzo con i suoi due principali banchieri sono i feudi da a Nicolò Pallavicino un feudo nel 1600 e a Geronimo Serra il marito di Veronica nel 1601 dopo avergli dato i feudi che per i genovesi sono preziosissimi non tanto per le rendite perché non avevano bisogno di quei soldi avevano bisogno dei titoli perché il patriziato genovese è un patriziato di origini di censo e non legato a un feudo e quindi i genovesi erano patrizi genovesi ma non erano marchesi eccetera con il feudo diventano marchesi acquisiscono quindi diciamo è un'escalation quindi questo intreccio è fondamentale cioè veramente anche questo ti dà secondo me e sono cose che magari non puoi trovare nei documenti ma alla luce di contesti simili dovendo accettare che ci sono delle cose che esistono e che sono successe anche se noi non le possiamo documentare come ci succede ogni santo giorno della nostra giornata quante cose facciamo che non possiamo dimostrare di aver fatto questo ragionamento è banale ma dobbiamo essere cioè dobbiamo avere la coscienza che lo possiamo applicare se creiamo dei quadri gli scenari paralleli quindi secondo me questo aiuta moltissimo a ricreare questo scenario che è chiarissimo credo come sia fatto da tanti piccoli tasselli e certamente questo binario Genova-Mantua è utilissimo è esemplare proprio per come può dare frutti quindi continueremo grazie a tutti Grazie a tutti